Eurozona significa un piccolo gruppo di persone in cui ci sono dei rapporti violenti, insisto violenti, di crediti e debiti. E se noi andiamo avanti come dei fessi, dove ci sta portando il PD su questa strada, i prossimi siamo noi. Ma cosa credete che noi siamo dalla parte dei picchiatori o dei futuri picchiati? Noi in questo momento, molto banalmente, stiamo andando dietro come dei cani, come dei cagnolini alla Merkel e a Hollande, quelli ai due che stanno gestendo il gioco, senza capire che i prossimi nella lista siamo noi esattamente come eravamo noi prossimi della lista quando è iniziato a partire lo spread. Lo spread è iniziato in Grecia, poi dopo è arrivato in Portogallo, poi dopo è arrivato in Spagna, poi dopo è arrivato a casa nostra. Stessa cosa per tutti i futuri contagi dell'Europa, ma cosa credete che la Grecia, dopo che noi gli abbiamo dato 60 miliardi, o 80 o quanti gliene daremo, fra tre anni o due anni o un anno non siamo ancora esattamente allo stesso punto dove dovremmo dargliene degli altri? Ora, era così tre anni fa, tre anni fa c'era un fesso che lo diceva e poi dopo invece si stavano vendendo la cosa che con il primo accordo, con i fondi salvastati e così via, si risolveva tutto, ma non si risolve un tubo.